Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, un miglio, sono in 12 al via, Orchidea da solo, Orazio Cain, Minerva Gas, Marina di Pisa, Nubbia dei Greppi, Ninguno, Narlene, Zeta N, One Way, Lazaron Baba, Lucio Di Esolo, Ziri, Revitol, De Nigo, i favori netti per Ninguno in chiusura, che resta su una prestazione davvero notevole, dato l'errore di Orazio Cain, squalificato. Facciamo una prestazione notevole l'altro giorno qui a Bologna, e così ne approfitta Marina di Pisa per conquistare la testa su Nubbia dei Greppi, ha sbagliato anche Orchidea da Sol, terza posizione per Minerva Gas, poi in Arlen Zeta N, via via tutto il gruppo, intanto continua a guidare Marina di Pisa, che dopo 200 in 14,5 cerca di modellare il ritmo, e completa il quarto iniziale in 33, quindi svelto, cerco di venire via, intanto Ninguno, all'esterno vediamo anche Oldenigo, se ne vanno i 600 iniziali, completati in 46,6 da Marina di Pisa, Ninguno però è in terza corsia, lesto a superare l'opposizione avversaria, per portarsi a ridosso di Marina di Pisa, talonato da One Way. A largo c'è anche Osiridevit, che ha anticipato Oldenigo, mentre lungo la corda resta Nubbia dei Greppi in seconda posizione, avanti a Minerva Gas, intanto un secondo e sei decimi, il passaggio al mezzo miglio, chilometro in 1,16,5, Marina di Pisa controlla, ma all'esterno c'è Ninguno che sta per entrare in azione, si trascina One Way, alla corda sempre Nubbia dei Greppi, Cavalli ormai al paletto del 400 conclusivo, numero 9, Lazzaro Mbaba, squalificato, Ninguno che comincia a premere, 14,8 il parziale, Marina di Pisa prova ad andarsene, Ninguno è sempre lì, trascinandosi One Way, alla corda c'è Nubbia dei Greppi, Cavalli al completamento della curva finale, Marina di Pisa e Ninguno alle prese, retta d'arrivo, Marina di Pisa cerca di opporsi a Ninguno che insiste e all'ingresso addirittura attacca con estrema decisione, poi One Way, ultime battute con Ninguno che si avvantaggia e controlla, One Way che batte per il secondo, Marina di Pisa, 29,4 a chiudere, 1,15 secco per Ninguno che corre ancora alla grande, vince la sua seconda corsa in 48 ore, dopo il successo di giovedì scorso, ripete oggi, buon secondo per One Way che contro un Ninguno del genere comunque non poteva probabilmente altro, terzo posto per Marina di Pisa che ha lottato fin sul traguardo dovendo soccombere del finale.